Aperopo Paperon de' Paperoni, il papero più ricco del mondo, con tutta l'intenzione di restarlo Siamo noi, Sio Paperone! Siete voi ragazzi, che piacere vedervi Che cosa posso fare per voi? Contribuire al programma sportivo cittadino Sport? Ottima idea! Vuoi dire che sosterrai il nostro programma? Ma certo che lo sosterrò Magnifico, e non ti costerà quasi nulla Costarmi? Cosa significa esattamente costarmi? Beh, tutti i nostri sostenitori regalano qualcosa Tu dovrai solo comprare una coppa per il campionato di calcio, come questa Un dollaro e quarantanove! Quando ho detto che vi avrei sostenuto, intendevo un sostegno come dire morale, tifo, acclamazioni, quel genere di cose Un dollaro e quarantanove, sono un sacco di soldi Ehi, aspettate, avevo un trofeo una volta Era qui da qualche parte Ah, l'ho trovato! Ecco qua, forse un po' impolverato, ma va benissimo per un torneo di calcio Non mi ricordo dove l'ho vinto, ma non importa Ma zio Paperone, questo trofeo è tutto... Ah, dovete ringraziarmi, era il minimo che potessi fare per voi Che razza di taccagno, darci un vecchio rottame solo per risparmiare un dollaro e quarantanove Probabilmente non vale neanche dieci centesimi Scusatemi, ma vorrei osservare più da vicino questo trofeo Eccezionale! Ragazzi, io sono il direttore del Museo di Arte Antica di Paperopoli Questa vostra urna atletica risale a certe culture presumeriche della vallata Ebegebe Avete idea di quale sia il suo valore attuale? Il suo giordale, signore Grazie, James Trofeo di calcio vale milioni Milioni! Le occorre altro, signore? Ma per ora è che si separa da milioni di dollari Dar via così tutto quel denaro è davvero un amore Sembra che quel trofeo valga una grossa somma Spero proprio che abbiano preso le necessarie precauzioni Santo cielo, la banda Vassotti Guarda, fratello, una coppia è abbandonata nel giornale del mattino Vediamo cosa c'è di nuovo a Paperopoli E lui è arrivato in perfetto orario Entra pure, zio Paperone Su, avanti, avanti ragazzi Cercate di essere ragionevoli Guardate, vi ho portato un trofeo nuovo di... Grazie, lo accettiamo con molto piacere Sul serio? Certo, sarà il premio per il secondo classificato Ragazzi, non pensate di approfittarvi di me! Dopo che tu hai cercato di approfittarti di noi L'unico modo che hai per riavere quel trofeo è vincerlo E come credete che possa fare? Potresti sponsorizzare la squadra vincente E immagino che possiate darmi dei suggerimenti Sulla squadra che ha bisogno di uno sponsor Credo che avete intenzione di spogliarmi fino all'ultimo centesimo, ragazzi Abbiamo bisogno di un pallone nuovo Perché questo non va bene? Secondo me sembra perfetto Dove è finito il commesso di questo negozio? Solo da voi tra un secondo Stavo solo perdendo qualche palla Che incompetente Pensavate che le facessi cabere? Caspita, è proprio quello che ci serviva, grazie Felice di avervi aiutato Posso fare qualcos'altro per voi? Credo proprio di sì Per la verità ho grandi progetti su di te Aspetta di vedere la squadra Anche se non ti sembrerà possibile Sono degli ottimi giocatori Salve amici Mi chiamo Pippo Sport E sarò il vostro nuovo allenatore Chi di voi ha già giocato al calcio prima d'ora? È facilissimo Lo scopo del gioco è di far entrare il pallone nella porta dell'altra squadra E di non farlo entrare nella vostra porta È tutto chiaro? Sapete tutti cos'è questo? Perfetto Ora vediamo come si può fare Chi vuole provare per primo? Su avanti, forza! Benissimo! Forza! Tiralo! Molto bene! Adesso vediamo il gioco di squadra Ottimo gioco di squadra! Nel frattempo, nella parte malfamata della città Bene, mettete molte uova bagno nel succo di limone Stando a voto stanzi a non rompere le uova Questa assicurerà Ehi, perché non ce la lasci guardare? Razza di sfaticati Ve ne state seduti tutto il giorno davanti alla tv Mentre i nostri fratelli si sono preoccupati di trovarci un lavoro Davvero? Di che si tratta? Si tratta del nostro caro amico Paperone Grande Paperoni che ha dato via un trofeo che vale più di un milione di dollari Un milione di dollari? Ehi, un momento fratelli! Sapete? Potremmo aspettare che finisca il torneo Sapere chi sarà il vincitore E forse, dico forse Poi potremmo rubare quel trofeo Chiunque abbia vinto quel trofeo E poi il trofeo sarà nostro! La tua, piccolo fratello, è un'idea molto intelligente Ma io ne ho una migliore Chiameremo qualcuno dei nostri cugini E formeremo la nostra squadra di calcio Poi dovremo solo vincere il trofeo E portarcelo a casa in modo assolutamente legale Ma noi non sappiamo niente di calcio Dico bene Noi non ne abbiamo bisogno Ascolta, fratello Questa volta useremo la nostra arma super segreta e super nascosta Ma quale c'era? L'imbroglio! La banda Bassotti si iscrive al torneo di calcio Pippo Sport guida la squadra alla prima vittoria I Bassotti sempre più forti La squadra delle maglie verdi continua a vincere La banda Bassotti entra nei quarti di finale Pippo Sport porta la squadra alle semifinali Questo Pippo Sport sta andando un po' troppo bene per quanto mi riguardo Già, penso che in fin dei conti potremo anche accordarci con lui Già, possiamo accordarci ma a modo nostro Molto bene ragazzi Danno vincenti Bassotti un milione a uno Che c'è signor De Pafferotti? In campionato, incontreremo la banda Bassotti Non si deve preoccupare Giocheremo contro di loro lealmente e vincerà il più meritevole Ma tu non conosci la banda Bassotti quanto me Non giocano lealmente Non giocano lealmente? Ma cosa significa? Significa che faranno di tutto per vincere Falsificheranno documenti Produrranno dei testimoni falsi Corromperanno dei pubblici ufficiali ancora di più Quelli imbrogliano Sul serio? No Non è leal Questa è una buona idea Andrò anch'io a riposare Bene ragazzi Voglio che facciate una bella dormita Così domani sarete pronti per la grande partita Oh i boh Quasi ci inciampavo Oh ho ho Strutale Oh Eh Eh Uh Ah Un po' bello Non ho spento la luce del baglio Oh La spegneremo Rai Ho stainless Buon pomeriggio appassionati di calcio di Paperopoli Vi diamo il benvenuto alla partita del campionato fra i grandi favoriti, la Bamba Bassotti e la mesera squadra di De Paperoni, le Maglie Verdi. Ombedue aspirano a vincere l'ambitissimo trofeo da un milione di dollari. Tutto è pronto, le squadre sono negli spogliatoi e il giorno è entusiasmo incontenibile. D'accordo, potete anche considerarmi un sentimentalone, ma se dovete tenere alto il nome di De Paperoni dovete avere l'aspetto di una vera squadra. Beh, dite qualcosa ragazzi, cosa ne pensate? Ragazzi, cosa c'è che non va? Dov'è Pippo? L'abbiamo trovato sulla porta dello spogliatoio. Care Maglie Verdi, il postport non potrà essere presente alla partita di oggi perché è legato come un salame. Post scriptum, Paperone, non dimenticare di lucidare il trofeo. Dovevo aspettarmi una cosa del genere, quei farabutti della banda Bassotti. Hanno preso Pippo. Dovete farvi coraggio, amici. Pensate cosa può significare per gli onesti spettatori. E per il mio portofoglio. Signori, ne va del vostro onore. È giunta l'ora di vincere, perciò andate là e battetevi. E vincete il mio prezioso trofeo! Non te ne importa niente di cosa è capitato a Pippo Sport, dopo tutto quello che ha fatto per la squadra. Non avete idea di quanta gente ci sia nello stadio. Come mai tanto interesse per una partita? Tutti pensavano che la banda Bassotti avesse la vittoria in tasca. Ma ecco che entrano in campo ai beniamini del pubblico. Le Maglie Verdi. Un momento, Pippo Sport non è sceso in campo con la squadra. A quanto si può vedere sembra proprio una bella squadra, non è vero? Soprattutto con il loro nuovo capitano. Sapete ragazzi, non importa chi guidi la squadra, purché giochino sempre al loro meglio. Caspita, hai sentito che ha detto? Senti amico, mentre aspettiamo che la tua squadra perda, non c'è nulla che vorresti e che potremmo fare per te? Oh, grazie mille. Credete che possa bere un po' d'acqua? Certo! Grazie! Non c'è di che. E adesso c'è qualcos'altro di cui hai bisogno. No, grazie. Per ora basta così. Sembra che siamo pronti per il calcio d'inizio. L'arbitro, John Quattrocchi è in posizione al centro del calcio. Possiamo farcela! La banda Bassotti effettua il calcio d'inizio, come potete vedere. Ma l'attaccante delle Maglie Verdi lo intercetta e passa il contrattacco. E una piazza d'olio sul capo. Sembra che... Apri gli occhi, arbitro! Non vedi che cosa stanno combinando? Le Maglie Verdi hanno qualche difficoltà a tenersi in piedi. I Bassotti prendono la palla e la portano fuori dalla mischia. La passano all'attaccante che corre verso la porta con un'azione improvvisa. Doppietta si fa avanti e passa il pallone a marmellata che tira e fa... Gol! Il punteggio. Banda Bassotti 1, Maglie Verdi 0. Ottimo giudizio. Eh, grazie. E dove sono i miei occhiali? Le Maglie Verdi partono all'attacco. Riusciranno a farcela? Niente da fare, amici. Bellissimo calcio di bicicletta. E la banda Bassotti organizza una barriera. No, un muro. No, una montagna di mattoni. L'azione si fa confusa. Il gioco diventa pesante. Posta aerea con segno speciale. 2 a 0. L'ultimo gol è stato fischiato. Sembra che in campo si faccia qualche lavorito di pittura. Un difensore delle Maglie Verdi effettua un tiro di testa, ma le sue speranze vengono mandate in frantumi. Questo non è assolutamente regolamentare. L'arbitro sta cercando i suoi occhiali e... viene scaraventato fuori campo. Si capisce, amico? Ehi, ma non è leale. Non è leale. Nel frattempo le Maglie Verdi partendo in contrattacco avanzano con un abile 1-2. Il figlio viene bloccato con un salto mortale dalla potente difesa della banda Bassotti. Quella che sembra una normale partita di calcio si sta rivelando una lotta senza esclusione di colpi, dove la squadra delle Maglie Verdi sta avendo l'affetto. La porta è chiusa. Le Maglie Verdi si stanno spegnendo. Sembrerebbe quasi ora di andare tutti a casa. I Bassotti schiacciano le Maglie Verdi in attacco. Siamo rovinati. Sono rovinato. E' fatta. E' la fine. Siamo finiti. Caput. Dove sei andato, Pippo? Aiutaci. Non sa che Pippo è qui con noi. Ehi, eccolo là. Accelera. E alla fine del primo tempo le Maglie Verdi continuano a rimanere a bocca asciutta. Banda Bassotti 10, Maglie Verdi 0. E ora, mentre le squadre vanno a riposarsi negli spogliatoi, per la gioia delle vostre orecchie potrete ascoltare la banda di Papperoppo. Siamo forti. Vinceremo. Poche partita. Ma la squadra è un ammasso di Pappemolli. Senza Pippo sarà una passeggiata per noi. Forza, ragazzi! Forza! Pippo! Salvezza mia! Grazie al cielo sei tornato da noi. Dobbiamo decidere la nostra strategia d'attacco. Dobbiamo giocare come non manca! Urrà! Ora scenderemo in campo e gli faremo vedere cosa siamo capaci di fare. Beh, fratelli, dopo il primo tempo abbiamo già la partita in tasca, perciò entriamo in campo e in bocca al lupo, solo che il lupo siamo noi. Non riesco a crecarci. Pippo è entrato in campo. A che cosa hanno combinato i nostri fratelli? Ah, d'accordo, fa lo stesso. Dopo si pentirà di aver giocato. Eh, le squadre sono pronte. Prontissime, arbitro. Viene dato il primo calcio al pallone. Abile manovra della banda Bassotti che si dirige verso la porta. Ma il pallone viene fermato da Pippo. Scarta con eleganza gli avversari. Si prepara, tira e fa gol! Novella addormentata si è finalmente svegliata. Pippo si impossessa ancora del pallone. Tira e segna di nuovo. Il pallone con un'abile manovra viene passato a doppietta che viene marcato ovviamente dalle maglie verdi. Ecco che velocemente si dirigono verso la porta avversaria. Segliano! Ancora rete, c'è un altro passaggio e segnalo di nuovo. Ancora un gol a destra e Pippo effetta un tiro nel campo avversario dove viene bloccato da un muro di difesa. Si sposta a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Fa desti, a 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 venti metri. È incredibile, è in barna! Le maglie verdi si sono portate sul 10 a 10. Adesso ragazzi facciamoli neri una volta per tu. E ora Pippo scatta con il pallone nel campo dei Bassotti. Pippo è da solo, ma i Bassotti sono subito alle sue calcagne. I Bassotti lo bloccano e per un pacco, se non è un pallo questo. Non importa se l'arbitro ha perso i suoi occhiali di vista, ma deve fischiare il pallo. Lasciamo l'estrema unzione, lo vedrebbe anche un cieco che è stato colpito. Guarda, non è regolare. Allacciate le cinture amici, mancano solo tre secondi alla fine della partita. Pippo dovrà effettuare un cerchio di rigore. Avanti, ritorna in te. Ma dov'è il pallone? Questo lo sistemerà. Ora stai attento. Quando Pippo colpisce il pallone, premi il bottone rosso. Ecco il pallone, signor arbitro. Grazie. Fatti forza, Pippo, puoi farcela. È l'ultima possibilità. Tutto il campionato dipende da questo calcio di rigore. Pippo sta raccogliendo le idee. Il portiere non può muoversi finché non viene calciato il pallone. Pippo non può effettuare finte colpendo il pallone. Deve essere un tiro molto pulito. Il pubblico è delirio. Pippo, 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 Pippo. Pippo colpisce il pallone e prega di riuscire a segnare. Ed è rete, l'arbitro campane del gol. Sì, amici, papà Natale esiste. Pippo ha portato le maglie verdi alla vittoria. Guardate la folla, 70.000 tifosi di calcio in piedi. Felici di essere in preda, diciamo, alla febbre verde. Paperonde Paperoni, lo sponsor della squadra, ha senz'altro diritto di sentirsi orgoglioso per l'esito del campionato e per aver conquistato l'ambitissimo trofeo da un milione di dollari. Gabbè, squa, stupido! Hai premuto il bottone sbagliato. Ciao, ciao, ragazzi. Arrivederci a più tardi possibile. Cosa farà del trofeo, signor De Paperoni? Da ora in poi sarà custodito in un posto dove resterà al sicuro per sempre. Nel museo di Paperopoli. E' deducibile dalle tasse, vero? Per bacco, ma certo! Zio Paperoni, vieni! Stanno per fare la fata alla squadra! Visto, ragazzi, se si gioca lealmente e si ha un grande spirito di squadra tutti possono diventare il numero uno. Ho, ho!